ho finito proprio due minuti fa di attaccare il primo pannello del fumetto che dall'inizio al racconto vero e proprio di tutti i lavori che sta facendo adesso metterò su tutti i file in un album con tutti i primi 13 in modo che si legano bene però questo è l'impatto in modo che quando le persone che grazie a dio vengono sempre a vedere in curiosità non riescono a dimenticarsi quando sono qui sento che gli manca qualcosa non capiscono questo fumetto qui potrebbe essere in grado di spiegare l'inizio perché è semplicemente l'inizio ok come devo farlo vedere e poi adesso cominciamo cominciamo con il resto la disolazione è l'ora della responsabilità di cominciare da me stessa ma quanto lo sai che non sognavamo ma quanto è meglio così che se andassi siamo qui non abbracciati poi vola nel cuore e la forza del seno e il creatore che c'è come on Pace, pace, c'è ora avanti te Orare che te Si, 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 avanti te Orare che